L'arte non poteva essere altrimenti uno degli elementi centrali della candidatura di Volterra, capitale italiana della cultura 2022. La città toscana ospiterà infatti alla fine di quest'anno una mostra dedicata al grande maestro del manierismo, Rosso Fiorentino. La pinacoteca civica custodisce infatti il capolavoro dell'artista perseguitato, che trovò ospitalità proprio qui nella città toscana. Eccola la deposizione dipinta 500 anni fa. Era il 1521 quando Rosso Fiorentino dette vita ad un'opera che ha segnato il passaggio tra il rinascimento e la maniera moderna, spezzando ogni equilibrio con un'avanguardia dirompente e inaspettata. Nel 2021 come progetto iniziale tutto il percorso di candidatura è prevista una grande mostra dedicata a Rosso Fiorentino. Il 2021 è il cinquecentenario dell'elaborazione di quest'opera. È prevista una grande mostra con la deposizione come ovviamente protagonista principale e molte opere collaterali di grandi fittori che saranno raccolte qua sotto la direzione della dottoressa Cidini di Firenze che progetterà questa mostra dedicata all'opera come cura. La mostra sarà incentrata su tre nuclei narrativi. Il primo legato all'iconografia della deposizione della croce e del compianto di Cristo realizzata da grandi artisti del 400 e del 500 che saranno esposti attorno all'opera di Rosso Fiorentino. Il secondo filone narrativo riproporrà un viaggio digitale nell'opera di Rosso con un'installazione ad hoc. Il terzo nucleo prevede infine un focus su opere di grandi intellettuali del novecento ispirate dalla deposizione di Volterra da Pierpaolo Pasolini fino a Gabriele d'Annunzio. Arte che contamina positivamente le menti, ispira, genera altra arte, altre idee, rigenera gli uomini come fa la stessa Volterra da secoli. C'è una conoscenza ormai anche scientifica del fatto che vivere, frequentare, essere abituali frequentatori, usufritori di bellezza, di cose piacevoli della cultura in generale come la definiamo noi oggi, aiuta anche a un benessere psicofisico della persona abbastanza elevato. Quindi la rigenerazione intesa anche come cura umana ci sta benissimo con i musei, con l'arte in generale e in particolare con questi musei come il nostro che ospitano opere d'arte nate anche per essere belle.